di quando un uomo con una pistola incontra un uomo con un fucile quello con la pistola è un uomo morto e c'è bisogno di fare tutto sto cinema per un calamaro pensa le tue verdure ora taglio il taglio è interessante anche io hanno tagliato i pollici ma andiamo a cuocerlo e poi maurie questo è stato che devi fare quanto godo una sfogliatella e voilà per una sfogliatella che si rispetti ci vuole un ripieno che si rispetti un ripieno di ricotta e cedro che ho preparato io tra l'altro fuoco Andre incendiala sfogliatella di mare anche stavolta è un gran colpo di cucina